Questa mattina alla conferenza dei capigruppo all'emiciclo ha incontrato il vicepresidente della regione Giovanni Lolli chiamato ad intervenire sulla vicenda che sta interessando l'azienda produttrice di bevande Santa Croce S.p.A. Riunione dei capigruppo che arriva all'indomani di un incontro al comune di Canistro in cui la regione ha confermato il nuovo bando di concessione essenziale per lo sfruttamento delle acque della sorgente Santa Croce. Nodo più problematico della vicenda è l'eventuale salvaguardia dei lavoratori dell'azienda che rischiano di rappresentare la parte debole del braccio di ferro tra la Santa Croce e la regione Abruzzo. Il vicepresidente Giovanni Lolli e i nostri microfoni fa il resoconto dell'incontro. La novità principale è che il bando ovviamente è pronto manca semplicemente il reintegro in possesso da parte della regione della proprietà indiscutibilmente della regione cioè dell'adduttore che collega la sorgente spongia Santa Croce allo stabilimento. E' un bando in cui la qualità del progetto industriale, il numero di occupati previsti e il ristoro necessario e obbligatorio che occorre dare anche alla collettività e alla comunità sono indicati in un termine molto forte. Noi come sapete il bando precedente ci è stato annullato da una sentenza del TAR perché era evidentemente un bando che non è stato fatto adeguatamente. Tutti i capi gruppo, qui non c'entra la collocazione politica mi sembrano tutti quanti molto convinti che qui bisogna operare al più presto. Si è anche discusso una cosa secondo me molto ragionevole su iniziativa e su proposta del Consiglio di Nicola cioè il fatto che noi, siccome l'acqua è uno dei beni pubblici questo ragionamento vale anche per altri beni pubblici che noi, che è un bene pubblico e qualora la legge che abbiamo dovrebbe prevedere che qualora un gestore di un bene pubblico non paga le tasse, non paga i tributi cioè non ristora la comunità proprietaria di quel bene di quanto deve fare questo deve diventare per legge causa di dissoluzione e annullamento della concessione. mi sembra una cosa molto seria e molto giusta questa.